Il sindaco Paolo De Maio ha chiesto un incontro con la soprintendenza per avere aggiornamenti sui lavori alla caserma Tofano. Non sono emerse infatti altre novità dopo l'incontro avvenuto ad inizio mandato. La richiesta è stata inoltrata alla dirigente della soprintendenza delle belle arti e del paesaggio di Salerno Avellino, Raffaella Bonaudo, per condividere gli sviluppi sul progetto relativo alla caserma Tofano. Un incontro richiesto anche dall'onorevole Piero De Luca per far luce sul futuro della struttura. A inizio mandato abbiamo visitato l'edificio insieme alla soprintendente Bonaudo e ai tecnici con la promessa di realizzare un incontro pubblico per condividere con i cittadini i lavori che riguarderanno la caserma alla luce del finanziamento di 4,9 milioni di euro accordato dal precedente governo in carica, ha dichiarato il primo cittadino. La caserma rappresenta infatti uno dei punti fondamentali per realizzare il parco urbano, nostro obiettivo di mandato, prosegue il sindaco De Maio. Auspichiamo che la nostra richiesta venga accolta non solo per il valore storico della caserma Tofano, ma anche per l'importanza simbolica che riveste per la città, conclude De Maio. La struttura di via Solimena ha delle potenzialità enormi e negli anni sono state espresse diverse ipotesi in merito al suo recupero principalmente come cuore culturale della città. L'ex presidio militare potrebbe essere qualcosa in più di un polo museale. Il recupero della caserma è stato al centro del programma elettorale del sindaco De Maio che intende creare un vero e proprio parco urbano insieme al completamento di San Giovanni in Parco, la ristrutturazione della villa comunale e la riqualificazione di Palazzo Fienga. Grazie a tutti.